aiuto aiuto dove sono dove mi trovo è tutto nero e poi ho delle assi di legno in mano un letto grigio cosa sta succedendo aia ma sto dentro qualcosa sto dentro della terra aiuto dove mi trovo ma questa non è casa mia ma in con earth cosa vuol dire tutto questo e dove mi trovo perché ci sta un qualcosa di tagliato no scusa no non è possibile ci sta c'è una persona ehi mi può dire dove mi trovo ma no non ho soldi mi dispiace non sono un mucumbra aiuto cos'è quella è una torre chi sono quelli o quelli forse sono persone normale che mi vogliono aiutare questi non mi rispondono aiuto e poi questo mondo è quadrato non per far sponsorizzazione a quadrato però aiuto è tutto quadrato questo mondo aiuto cos'è quello sembra sembra se siamo in un'isola fluttuante è una navicella spaziale quella se non mi sbaglio aiuto 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 devo trovare qualcosa questa è una cosa prova ad entrare toc toc c'è qualcuno non c'è nessuno ah signora lei è un contadino da come vedo posso posizionare il mio letto qui grazie mille signora ciao la casa è sua grazie per l'informazione per caso potrei acquistarla io per caso sa dove mi trovo perché mi sono addormentato ieri notte non non ho capito un granché mi sono risvegliato dentro un accumulo di terra grazie mille grazie ma allora non lo so devo trovare un modo per ritornare a casa grazie mille lei da come vedo è un contadino un mercante giusto si io sono un mercante sono quello più conosciuto di tutto questo mondo ma come mai che qui questo qua è un mondo dove possono vivere soltanto le persone che sono condannate alla morte oh cavolo vuol dire che io sono condannato alla morte aiuto devo uscire da questo posto quello è il mondo normale forse no non è impossibile che sia il mondo normale il mondo normale non è affatto a cubi aiuto devo far qualcosa signore mi aiuti cosa posso fare per uscire da qui dove è lei dove è lei mi dispiace amico mio ma questo mondo nessuno non è scappato da qui dovremmo morire con gli anni moriremo le risorse sono limitate perciò addio moriremo tutti quanti oh no vuol dire come moriremo tutti quanti signore signore come si addormenti qui signore no aiuto 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 devo fare qualcosa cos'è questo è un tavolo per gli incantesimi signore esisterà pure un modo per non lo so per togliere la condanna signore mi dica qualcosa esiste un solo modo per andare a scena bisogna trovare delle lane ora non so se l'hai visto ma ci sta una nave spaziale lì bisogna consegnare tutte le lane una volta consegnate tutte le lane Dio o chi o quella persona che ci ha mandato qui dovrà dirci se possiamo uscire o meno chi porterà tutte le lane uscire da questo posto purtroppo nessuno mai nella vita è uscito attorno con una lana una lana e neanche noi che siamo qui da ben 50 anni mi dispiace ma come son fottuto no non si addormenti proprio ora no no dobbiamo esisterà un muro per andarsene da qui da quello che speriamo che non ci siano persone ostili tipo non lo so tipo soldati o qualcun altro da quello sento degli scheletri tipo aiuto molta molta paura che ci sono ampolla d'acqua aiuto poi mi si è stato dato un secchio di lava oh no e cos'è questo devo eliminare questa libreria tavolo degli incantesimi vi siete proprio signore vi siete proprio proprio sistemati molto bene qui cavolo ormai già si è addormentato il signore aiuto meno male che non era casa sua questa immagina ok allora proviamo ad andare buono c'è una porta aiuto è un letto un nostro letto forse questa è la nostra stanza che ci ha dato questo signore che ci ha intrappolati devo trovare un modo per uscire da qui signore signore come è possibile adesso è giorno dove sei signore dove è il signore ma dove sono gli altri signori sono tutti scomparsi oh no il mondo sta cambiando aiuto aiuto me l'aveva detto il mondo degenera ogni secondo che passa fino all'esplosione come così come è stato creato così si distruggerà devo scappare cioè deve essere un modo ha detto che devo trovare delle lane però loro è più da 50 anni che stanno qui non li hanno ancora trovate allora ho fame tra un po' avrò tanta fame dovrei mettere a piantare delle cose iniziamo a piantare dei non lo so dei semi di grano ma io non sono un contadino non so come si faccia aiuto non è possibile come mai i signori se ne sono andati da qui no non te le puoi andare chiudi la porta forse è al piano di sopra aiuto aiuto è molto molto inquietante questa cosa no devo scappare da qui allora della lana la lana bianca ma signori ok ho della lana bianca ha detto il signore che devo collezionare delle lane di ogni colore potrebbe essere un punto di ritrovo ok devo mettere un devo trovare delle chest delle casse questi sono delle libri devo spaccare queste librerie ok oh cavolo cos'è questo generatore di mostri o no qualcuno vuole ammazzarmi cosa sta succedendo qui devo uscire nel prima possibile ho trovato un'altra lana grigia ok perfetto e siamo già due lane se non ho capito male dovremmo trovare un bel po di lane aiuto questa è una cosa molto molto inquietante avrò bisogno molto molto d'aiuto cos'è questo la lana azzurra ok siamo sulla buona strada devo trovare devo trovare tutte le lane di ogni colore differente avrò bisogno di aiuto se no marcirò qui in questo mondo desolato aiuto